Lo dico in modo molto chiaro perché io partirei da un punto. Chi ha deciso di riaprire un conflitto in questo Paese è proprio il Governo Renzi, perché ha deciso di partire esattamente dall'articolo 18. E allora, se c'è una cosa che io credo è importante fare, è quella di evitare di giocare sul campo che qualcun altro vuole che tu giochi. Allora io penso che noi proprio dobbiamo evitarlo, non perché non sia questo un problema, ma perché noi, io credo, a diversità del Governo Renzi, lo dico come FIOM, come CGL, io penso che noi abbiamo il dovere, al contrario, di unire questo Paese.